Bentornato al professor Pierluigi Rossi, bentornato caro professore, dopo le festività natalizie ci ritroviamo qui. Buona giornata. Ci ritroviamo qui, buona giornata davvero, perché oggi parliamo di argomento molto interessante, parliamo di alimentazione e cervello. Tutti noi vorremmo avere, come dire, un cervello giovane, sveglio, attivo. E beh, però lo vediamo proprio in questi giorni, un po' addormentato, non ci vengono in mente nuovi termini, non riusciamo a parlare bene, ci dimentichiamo, magari dove abbiamo messo le chiavi della macchina, magari anche la spesa, io mi sono dimenticata. Vabbè, questa è un'altra storia. E devo dire che il cervello è quest'organo un po' sconosciuto. Leggevo che sono oltre 100.000 le ricerche che fanno ogni anno proprio per scoprire come funziona il nostro cervello. Ma esattamente, insomma, quel poco che si sa tanto, sicuramente l'alimentazione aiuta in un certo senso e lo vedremo anche come aiuta il nostro cervello. Ma come è fatto il nostro cervello, professore? Il cervello è un organo importante al pari degli altri organi. Tra l'altro invecchia più lentamente rispetto al muscolo, perché il cervello è fatto di 100 miliardi e oltre di neuroni, di cellule. Pesa circa un chilo e tre ed è protetto, la natura l'ha protetto attraverso le ossa. Cioè, noi non ci pensiamo mai, ma il cervello è localizzato qua nella teca cranica, protetto. Questo cervello è fatto di materia, però riesce attraverso le stimolazioni sensoriali, culturali e il nutrimento a passare dalla materia alla spiritualità. Quindi trascende la materia perché produce il pensiero, produce l'arte, produce l'amore, produce la musica. È un organo straordinario che se tenuto e nutrito bene, con l'ossigeno, con i nutrimenti che ora diciamo, il cervello invecchia meno rispetto all'altro corpo. E questo è importante perché non si parla troppo spesso di alimentazione cervello, di come l'alimentazione aiuta a mantenere giovane il nostro cervello. Magari si parla troppo spesso di alimentazione, di come l'alimentazione ci possa magari far restare in forma. E allora però ci sono dei segnali che ci manda il cervello, magari che riusciamo a captare che qualcosa non va, perché un po' capita a tutti noi, no? È il cervello lento. Un cervello annebbiato, lento nella ideazione, lento nella risposta, lento nella fantasia creativa. Una persona lenta ha un cervello lento e porta alla pigrizia. Allora, questo cervello, noi pensiamo che solamente le persone avanti con l'età siano colpiti da una decadenza cognitiva cerebrale, ma può colpire in ogni età. Quindi noi dobbiamo avere dei segni, per esempio dimenticare un'azione recente, perché non abbiamo ricordato bene dove abbiamo posteggiato la macchina, abbiamo un parcheggio dove ho posteggiato la macchina. Oppure per esempio perdere l'olfatto, non sentire più gli odori, oppure utilizzare la parola frequentemente cosa a cosa, perché abbiamo una perdita della fluidità della parola. Quindi la parola è un esempio, quando le persone non riescono a trovare le parole giuste al momento giusto, ecco questo è un senso di cervello lento. E poi c'è questo brain fug, che colpisce anche molte persone che hanno avuto il coronavirus e la covid, l'annebbiamento, cioè avere questo stordimento. Oggi che giorno è? Ecco, a una persona che gli fai una domanda di questo tipo, può avere un momento di incertezza. È venerdì. Se non rispondi prettamente, vuol dire che hai un cervello lento e annebbiato. E bisogna correre ai ripari. Allora, iniziando proprio dall'alimentazione, perché ci sono dei cibi che fanno male al nostro cervello, di cui magari abbiamo abusato nei giorni scorsi, durante le feste. Non bisogna demonizzarli, anzi, insomma, voglio dire, anche mangiare qualche cosa di più calorico fa anche bene alla convivialità, no, professore? Un palettone, un pandoro, un torrone, insomma, la cioccolata. Però ci sono alcuni cibi, adesso ci dobbiamo rimettere in rega, ci sono alcuni cibi proprio che non piacciono al nostro cervello, no? Il cervello è un organo che preferisce alimenti di origine vegetale e di origine marina. Non vuole eccessivi nutrienti derivati da alimenti di origine animale. Quindi una delle attenzioni principali è tenere sotto controllo la glicemia e l'insulina e l'emoglobina glicata, controllare il metabolismo glucidico. Perché quando si crea uno stato di insulino resistenza a livello cerebrale, noi abbiamo il terzo diabete, che è il morbo di Alzheimer, la malattia di Alzheimer, perché c'è un'insulino resistenza. Quindi attenzione alla glicemia post-prandiale. Bisogna evitare poi alimenti di origine animale o vegetali ma alterati industrialmente come la margarina, in modo tale da ridurre gli acidi grassi saturi, come l'acido palmitico, che si mettono sulla membrana dei neuroni cerebrali e alterano l'entrata dell'ossigeno e dei nutrienti all'interno delle cellule. Insomma, il corpo umano è composto di organi. Il cervello è un organo. Noi pensiamo che questo cervello sia un qualcosa di spirituale. Sì, produce la spiritualità, ma ogni volta che noi mangiamo, il sangue cambia la sua composizione in rapporto a ciò che abbiamo mangiato. E questo sangue arriva al cervello. Ha bisogno di benzina buona, diciamo così. Ha bisogno di ossigeno innanzitutto. Ha ossigeno innanzitutto. Io vedo qui il pesce. Allora io vorrei farle questa domanda. Mia nonna mi diceva sempre mangia tanto pesce perché contiene molto fosforo. Allora, il vero e falso è proprio questo. Il pesce aiuta la memoria grazie al fosforo? No, è falso. Contiene il fosforo, però il pesce contiene soprattutto degli aminoacidi essenziali. La memoria è una catena di proteine. Per fare le proteine occorrono gli aminoacidi. Quindi il pesce contiene aminoacidi essenziali, però contiene anche degli acidi grassi omega 3 e in particolare due tipi di acidi grassi che si chiamano EPA e DHA che vanno a costituire la membrana cellulare. O mangi il pesce o questi EPA e DHA non ce l'hai e decade il cervello. È questo. Dobbiamo avere l'idea molto chiara. Quindi il cervello preferisce carboidrati complessi, per esempio cereali e legumi, ma cercate di abbinare insieme, per esempio, risso integrale e, per esempio, piselli oppure pasta e ceci, farro e uova. Cercate di abbinare questi nutrienti in questo modo in modo da avere gli aminoacidi essenziali, abbinando i cereali e i legumi che riducendo la carne rossa, soprattutto le proteine di origine animale, quelle che dobbiamo scegliere è il pesce, le uova, la carne bianca e i formaggi caprini perché contengono gli acidi grassi a catena corta. E poi usare proprio i grassi. Il cervello vuole il grasso. Il cervello è l'organo che ha il più alto contenuto di colesterolo, ma non ci arriva attraverso il sangue. Viene prodotto dallo stesso cervello. Che è importante, è una sostanza importante proprio per il benessere delle nostre cellule. Il colesterolo demonizzato è bene, insomma, averlo sempre più basso. Quello che sta nel sangue, però, quello che sta nel sangue ti dà l'arterosclerosi. Mentre il cervello che produce il colesterolo va nella costituzione delle membrane. Sono due cose diverse. Due cose, bisogna capirle anche. Esatto. Professore, facciamo un test. Perché bisogna fare un test. Voglio, come dire, fatelo anche voi a casa, questo test. Adesso ci dirà il professore per vedere quanto è elastico il nostro cervello, quanto è giovane e attivo. Allora, che test posso fare, professore? Guardi, le consiglio. In pochi secondi, lei vede di ricordare il più alto numero di verdure. Io già qua ne vedo un po'. In quanti secondi? In 20 secondi, facciamo se la regia è d'accordo. Sei d'accordo, sì, Paolo Ferrazza. Io tengo presente il nome delle verdure che lei, Monica, fa in questi 20 secondi. Vabbè, mi dà lei il via? Via. Allora, agretti, cavolo, cavolfiore, broccolo, finocchi, carote, indivia, spinaci, zucchine, zucca, cipollotti, fagiolini. Poi che compro io? Ah, la lattuga, il sedano, basta. 14. Ah, ho capito. 14 tipi di verdure. È promossa, 30 e lode. Le persone che in 20 secondi non ricordano i vari tipi di verdure e stanno al di sotto di 8, hanno un cervello lento. Ah. E quindi bisogna fare ginnastica mentale. Si può fare anche con altri prodotti. Si può fare il nome delle persone, le amicizie. È una sorta di ginnastica, professore. È una fluidità. Non vi dovete preoccupare, no? Perché magari non vi vengono in mente. Però, insomma, il cervello va allenato anche con questi piccoli test o sbaglio, professore? Va fatta una ginnastica mentale perché i neuroni sono quelle cellule che, se stimolate, dà più stimolazioni sensoriali o anche dalla cultura, oltre al nutrimento giusto, l'ossigeno, gli acidi grassi, gli aminoacidi, quello che abbiamo detto, le frutte, la verdura, la vitamina B perché aiuta a mantenere, B12 aiuta a mantenere la mielina, e l'olio extravergine di oliva, la frutta secca perché contiene l'omega 3. E poi possiamo avere le persone che hanno necessità, un'integrazione. Ecco, infatti. Allora, si può fare con l'olio di grill, è un olio fatto da un crostaceo, che è l'animale più, il piccolo crostaceo diffuso su tutto il mondo, come vedete qui in questa slide. E l'olio di grill è per le persone onnivore perché contengono dosi elevate di EPA e di H. Ricordate, EPA e di H, che sono due nutrienti essenziali per i neuroni. Per coloro che invece sono vegetariani o vegani, c'è l'olio algale, cioè l'olio di alghe, che sono particolarmente ricche di EPA e di H. Questo a tutte le età, a tutte le età, non solamente le persone avanti con l'età. E deve essere sempre un medico a prescrivere questi integratori, professore, se c'è una carenza, se c'è, come dire, un decadimento anche un po' cognitivo a questo punto. Non ci sono negli alimenti. Questi due acidi grassi, EPA e DHA, non sono contenuti negli alimenti, solo contenuti nel pesce o nelle alghe. Il pesce contiene questi due acidi grassi polinsatili, DHA e EPA, perché mangiano le alghe. Allora, diamo degli ultimi consigli, professore, su come davvero mantenere, Allora, a parte la ginnastica che è fondamentale, perché no, fatelo anche a casa, ricordatevi dei nomi, appunto, delle verdure, ma non solo, i nomi, anche dei nomi maschili e nomi femminili. Ma ci sono altri consigli che possiamo dare, professore? Ma sì, le stimolazioni sensoriali, il lavoro, la meditazione, la spiritualità, il sonno, il sonno è il sogno che aiuta a pulire il cervello, l'amore, la spiritualità. Cioè noi dobbiamo stimolare questi neuroni, immettere dentro questi neuroni più informazioni possibili, in modo tale da fare delle sinapsi. Le sinapsi sono la sostanza bianca che collega ad altri neuroni. Ecco, quando decade la sostanza bianca, per cui una persona è lenta, pigra, degenera nella sua attività cerebrale, ecco, a quel punto lì noi dobbiamo svegliarci e assicurare i nutrimenti. Vedete, per esempio, questi neuroni, quei piccoli parti bianchi, quella è la mielina. La mielina è la sostanza bianca e quindi controllate, per esempio, la vitamina B12, la vitamina D e soprattutto l'omocisteina. Insomma, noi possiamo conoscere il nostro cervello per tenerlo in piena attività. E non dimentichiamo mai che l'amore e la spiritualità sono grandi stimolazioni per vivere e soprattutto l'altruismo, la carità, la misericordia da dare agli altri, il volontariato umanitario. Esatto, fare il bene agli altri e soprattutto fare bene anche a noi stessi, è questa la prima regola. Grazie davvero a Professor Pierluigi Rossi, grazie per questi consigli.